Buonasera a tutti, vi ringrazio per la pazienza. Siamo alla fine di una giornata molto impegnativa e direi molto positiva. Oggi si sono svolti non soltanto alcuni appuntamenti istituzionali di rilievo, su tutti ovviamente la visita del Vice Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, ma abbiamo avuto modo anche di intervenire su alcune tra le principali. Questioni che da tempo sono alla vostra attenzione. Nella giornata di oggi si è svolto il CISR, in queste complicate sigle stiamo parlando dell'organismo al quale partecipa, peraltro lo stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze, oltre ad altri colleghi Ministri, direi interno, giustizia, difesa, esteri, oltre al sottoscritto e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la nomina dei dirigenti, dei vertici delle strutture dell'intelligence, dei servizi segreti. Nelle settimane scorse ho letto una ridda di nomi che francamente non trovavano riscontro, come se io dovessi mettere qualche amico a capo dei servizi. In un Paese civile, in un Paese normale, quando si tratta di fare le nomine degli alti vertici istituzionali, si scelgono le personalità che guidano o hanno comunque una comprovata esperienza nei settori di polizia, di intelligence, militari e di conseguenza abbiamo individuato, ci siamo dati innanzitutto un metodo, che è quello di fare le nomine tutte insieme. Abbiamo scelto di fare le nomine per solo due anni, perché nell'aprile del 2018 comunque ci sarà un altro Governo dopo le elezioni del febbraio 2018 e noi siamo persone serie, vogliamo che chi arriverà dopo di noi possa avere lo spazio di nomina che giustamente la legge prevede, poi siamo dell'idea che vinceremo le elezioni e ci torneremo noi, ma questo non lo possiamo sapere e quindi l'aspetto istituzionale di correttezza ha portato a fare nomine biennali e ci siamo dati come regola, questa è una cosa importante, in questo passaggio di nomine di non dare delle proroghe. Questo significa che vi è stato un ricambio di tutte le figure apicali che andavano a scadenza. Per queste ragioni vorrei ringraziare tutti gli uscenti e alla guida del Dis in questi quattro anni ha lavorato l'Ambasciatore Massolo, servitore dello Stato e delle istituzioni in cui va la mia, nostra, non soltanto del Ministro Padoan ma di tutto il Governo gratitudine, il suo posto sarà preso dall'attuale Capo della Polizia, Prefetto Pansa. Quando si fanno le nomine a questi livelli si scelgono personalità del mondo istituzionale, così almeno gli articoli che avete scritto per tre o quattro mesi perderanno larga parte del loro valore, ammesso che mai lo abbiano avuto. Vi è poi la nomina alla guida dell'Agenzia interna di sicurezza, l'Aisi, quelli che una volta erano i servizi segreti interni, i servizi segreti interni, i servizi segreti nel 2018, quindi il prossimo Governo deciderà, ti segnalo che tu ci sarai sempre, vorrei che tu ti facessi strane illusioni, era lì che ci sperava, mentre per l'Aisi il lavoro che ha svolto il generale Arturo Esposito è stato un lavoro molto positivo e rilevante, anche a lui la mia gratitudine personale, il mio sincero apprezzamento e il nostro sincero apprezzamento, al suo posto è stato nominato in sede di CISL questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi, il generale parente attuale vice del generale Esposito. Perché c'è una logica in queste già comandante dei Ross dell'arma dei Carabinieri? Tra l'altro, alla guida del Dis una personalità proveniente dalla Polizia, stiamo parlando peraltro del capo della Polizia, quindi della massima personalità della Polizia, al capo dell'Aisi, una personalità proveniente dall'arma dei Carabinieri. All'Aisi c'è un interno, uno che è cresciuto all'interno dell'Agenzia. Questo riguarda le nomine che abbiamo affrontato in sede di CISL. Poi si è fatto il Consiglio dei Ministri, vi sono state numerose nomine, il bollettino ufficiale del Consiglio dei Ministri renderà ragione dei vari movimenti, dei movimenti diplomatici, dei movimenti all'interno della struttura del Viminale, anzi permettetemi di salutare il dottor Vittorio Rizzi che è stato nominato prefetto, il capo della sicurezza di Palazzo Chigi, il capo del Dipartimento di Polizia di Palazzo Chigi, ci lascerà nei prossimi giorni per assumere un più importante ruolo, non che Palazzo Chigi, sicurezza non sia importante, ma nel lavoro sull'anticrimine all'interno della Polizia di Stato, lui e i suoi neo nominati e colleghi, il mio affettuoso in bocca al lupo, su proposte del Ministro dell'Interno, mentre su proposte del Ministro degli Esteri sono fatti dei movimenti di ambasciatori, tutto questo avrete un elenco dettagliato con tutti i nomi. Vi sono 18 prefetti e vi sono una ventina di spostamenti all'interno della struttura diplomatica, cambiano alcuni ambasciatori. Si è poi proceduto a tre nomine in Consiglio dei Ministri, direi tre più una, perché una è una nomina che fa il Presidente del Consiglio, ma comunque è una nomina che ho portato all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Il capo della Polizia si rende vacante nel momento in cui il dottor Pansa diventa il capo del DIS. Abbiamo individuato nell'attuale prefetto di Roma, il dottor Franco Gabrielli, il nuovo capo della Polizia. Auguro al dottor Gabrielli il miglior augurio ovviamente di buon lavoro. Alla guida della Guardia si è scelto per succedere al capo della Polizia il prefetto della città capitale, che peraltro ha un'esperienza in Polizia, già guida anche dei servizi segreti interni del vertice dell'Aisi. Come vedete stiamo parlando di personalità del mondo delle istituzioni. Poi nei prossimi settimane individueremo il nuovo prefetto per la città di Roma. Alla guida della Guardia di Finanza ringraziamo il generale Capolupo che ha svolto negli ultimi, direi tre anni, se non quattro, il ruolo di comandante. Sapete che la Guardia di Finanza ha da qualche anno il comandante generale, lo esprime a livello interno. Prima non era così, il primo è stato il generale Nino Di Paolo, poi il generale Saverio Capolupo, il successore del generale Capolupo che peraltro continuerà a servire il nostro Paese nella funzione di consigliere di Stato, perché quest'oggi ho inviato la lettera al Presidente del Consiglio di Stato Paino, al Presidente della Corte di Conti Squitieri, con l'individuazione di dieci nomi per il Consiglio di Stato e di undici nomi per la Corte dei Conti, con la proposta che il Governo fa per questi nomi, quindi ringrazio il generale Capolupo e gli auguro di cuore buon lavoro a servizio del Paese nel Consiglio di Stato, il comandante in seconda della Guardia di Finanza, quindi il numero due della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi, prende il posto del generale Capolupo. Esce il comandante perché che va in pensione, in realtà svolgerà la funzione di consigliere di Stato perché raggiunge l'età pensionabile, lo sostituisce il numero due, il comandante in seconda. Alla guida della Marina Militare, terza nomina, su proposta del Ministro Pinotti abbiamo individuato l'attuale. Ringraziamo l'ammiraglio Gabriele De Giorgi che ha svolto un lavoro straordinario in questi anni. Nessun tipo di polemica o valutazione, che naturalmente noi rispettiamo, può togliere qualcosa alla straordinaria. Carriera dell'ammiraglio De Giorgi, cui va la gratitudine non soltanto per le operazioni degli ultimi mesi in Mediterraneo, ma per il servizio che egli ha reso al Paese in questi anni, anche a lui. La mia personale gratitudine è quella di tutto il Consiglio dei Ministri. Prende in suo posto l'ammiraglio Walter Girardelli, attuale capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Questo per dire come, quando si tratta di fare delle nomine, noi abbiamo il desiderio di valorizzare le figure istituzionali. È accaduto qualcosa di nuovo. Con un governo che è stabile, noi siamo già il sesto governo su 63 come longevità nella storia italiana, quindi uno dei più stabili, il sesto più stabile su 63, questo la dice lunga, e siamo appena arrivati, ancora non ci siamo neanche abituati, non abbiamo preso ancora le misure, questo la dice lunga sul fatto che in passato cambiavano i governi e in passato qualcuno faceva le nomine, quelli che toccavano in quel momento. Noi abbiamo scelto un metodo di lavoro in cui la politica rivendica orgogliosamente la necessità di fare le nomine come è doveroso che sia e contestualmente e contemporaneamente le fa con un criterio di trasparenza totale, perché come avete visto si tratta di nomine totalmente istituzionali. Non ci sono cordate o cordelline varie, c'è un meccanismo per cui esce il capo e ci va il vice, ai servizi ci va il capo della polizia e tutto quello che avete sentito non vi vorrei replicarlo. Vorrei anche segnalare che come credo da buona norma ho chiesto all'autorità delegata ai servizi, l'onorevole senatore Marco Minniti, che è un prezioso punto di riferimento istituzionale per tutti e prezioso collaboratore per me è un punto di riferimento anche in tante di queste questioni, di comunicare prima delle nomine alle opposizioni le nomine fatte. Non ho chiamato io i singoli perché non mi sembrava opportuno, ho chiesto all'autorità delegata di informare preventivamente, prima del CIS e prima del Consiglio dei Ministri, una volta che si era verificato i nomi, i senatori e i deputati che fanno da punto di riferimento dentro le strutture e credo che il senatore Minniti abbia provveduto nei limiti ovviamente del possibile alcuni partiti, prima si chiamavano i segretari dei partiti, ora la situazione è un pochino più destrutturata, per cui sono stati chiamati dal senatore Minniti però i singoli interlocutori. Ho chiuso le nomine dicendo che ce n'era un'altra, alla quale ovviamente tengo molto, che è il consigliere militare di Palazzo Chigi, sapete che da qualche mese il generale Magrassi ha lasciato il suo incarico, Connello Puri ha svolto egregiamente le funzioni di vicario e mi auguro possa continuare a farlo, il nuovo consigliere militare è il generale dell'esercito Masiello, che ha molte esperienze internazionali e non solo, stretto collaboratore del capo di Stato maggiore della difesa generale Graziano. Quindi come vedete si tratta di scelte di grande livello, davvero un grazie di cuore a tutti quelli che hanno lasciato con oggi o che lasciano nei prossimi giorni i propri incarichi e un grande in bocca al lupo. Noi crediamo nella struttura tecnica di questo Paese, crediamo nelle strutture dirigenziali di questo Paese, pensiamo che l'Italia abbia bisogno di scommettere sulla qualità delle proprie donne e dei propri uomini che svolgono una funzione pubblica e sono certo che i nuovi nominati, i nuovi prefetti, i nuovi ministri plenipotenziali in sede di ambasciata, i nuovi vertici apicali delle strutture potranno svolgere un lavoro molto serio. Io nei prossimi giorni procederò anche a ulteriori organizzazioni interne sia della mio staff di Palazzo Chigi, come è doveroso che sia e come credo sia molto opportuno fare, quindi lo faremo la settimana prossima. Spero che non vi sfugga la differenza tra le nomine istituzionali e le nomine di staff. Le nomine istituzionali sono nomine che afferiscono alle professionalità presenti nella pubblica amministrazione e le nomine di staff sono collaboratori del Presidente del Consiglio protempore che come tale svolgono un servizio importante, un ruolo significativo, ma che poi nel momento in cui il Presidente del Consiglio se ne va lasciano, perché non sono delle persone che lavorano con tutti, lavorano con la squadra di governo. Succede così in tutto il mondo e soltanto da noi vi è una potenziale confusione tra questi due ruoli, ma ci tenevo a dirlo perché almeno ci siamo chiariti definitivamente. Spero che anche ai più accesi e accaniti sostenitori della sovrapposizione di questi ruoli sia finalmente chiaro che abbiamo una netta differenza tra i ruoli istituzionali e i ruoli di supporto alla Presidenza del Consiglio, per i quali peraltro mi sono molto fiero di poter raccontare sull'aiuto di grandissimi professionisti che già ci sono ed altri che staranno arrivando. Mi sembra di aver detto tutto delle nomine, avendo parlato circa 47 minuti soltanto delle nomine, penso di aver espresso con molta chiarezza la posizione, i nomi sia dei consiglieri di Stato che della Corte dei Conti che dei prefetti che saranno ovviamente a vostra disposizione con il comunicato Stato. Vi sono poi ulteriori provvedimenti presi, vi risparmio i meno rilevanti, ce ne sono due che saranno portati all'attenzione del Parlamento nella forma di decreti legge. Uno è il cosiddetto decreto legge missioni, che era atteso da tempo, e uno è il decreto legge che, componendosi di tre parti, si propone di risolvere in modo, io credo di poter dire e di poter sperare, ma poi Pier Carlo mi correggerà dove io sbagliassi, definitivo le problematiche del mondo bancario nel nostro Paese. Questo decreto legge si compone di tre capitoli, ma prima di entrerci uno, misure a sostegno delle imprese, accelerazione del recupero crediti. Il secondo capitolo, ve lo leggo così non sbaglio, le misure in favore degli investitori di banche in liquidazione, è la questione dei rimborsi delle cosiddette banchette, delle quattro banche oggetto del provvedimento di novembre, e il terzo e ultimo punto, c'è anche un capitolo quarto che è la copertura finanziaria, come sempre. Il terzo capitolo è altre disposizioni finanziarie sull'attività per imposta anticipata, come si dice DTA, con l'inglese si dice DTA, e il fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Vi prego di ascoltarmi un attimo, io faccio una rapidissima introduzione e poi lascio la parola al Ministro e poi a voi per le domande. Noi ci siamo trovati in una situazione, vorrei proprio rivolgermi in modo più semplice possibile, perché se lo capisco io significa che lo capiscono tutti. Noi ci siamo trovati in una situazione in cui i governi precedenti, secondo me sbagliando, ma ormai è un dato di fatto, non sono intervenuti sul sistema delle banche. Mentre in tutti gli altri paesi europei si interveniva, e come se si interveniva, la Merkel ci ha messo 247 miliardi di euro, noi abbiamo scelto di non intervenire. Si è fatto un piccolo intervento sui cosiddetti Tremonti Bonds, che poi hanno portato più soldi in cassa, quindi non sono una spesa alla fine, non sono state una spesa, ma non si è toccato niente. Cosa ha fatto questo Governo? E la mia gratitudine va al Ministro Paduan e a tutti i suoi collaboratori, e naturalmente agli altri ministri e membri del Governo. Uno, ha risolto la questione delle banche popolari. Attesa da decenni il Governo con Ciampi Ministro e Draghi, Direttore Generale, non era riuscito a fare quello che ha fatto il Ministro Paduan, gennaio 2015. Due, ha messo in una rete di sicurezza le banche di credito cooperativo, in una rete di autosicurezza, mi verrebbe voglia di dire, perché di fatto se la gestiscono loro. Terzo punto, si è trovato costretto con le nuove regole europee ad affrontare la crisi di alcuni istituti di credito. La famigerata vicenda che riguarda Banca Ferrara, Banca Etruria, Banca Chieti e Banca Marche. Questa vicenda è stata volutamente, strumentalmente raccontata in modo diverso dalla realtà. Noi siamo intervenuti salvando i correntisti che altrimenti sarebbero andati a gambe all'aria. E non vi è stato, nel caso delle quattro banche, alcun elemento di favore verso i manager o la struttura delle quattro banche medesime, che sono state messe in procedura di risoluzione. Cioè, per essere chiari, i cittadini hanno salvato i propri soldi e siamo, come avete visto, ai procedimenti di sanzioni nei confronti dei manager di queste banche e di commissariamenti. La verità, al netto della propaganda che è stata utilizzata su questa vicenda, è che il nostro atteggiamento è stato molto rigoroso e serio. Mi sarebbe voglia di dire che forse lo stesso atteggiamento serio e rigoroso avrebbero dovuto avere altre banche, anche di quelle non risoluzione. Penso in particolar modo a alcune decisioni sulle azioni di responsabilità, ma non riguarda noi, non tocca a noi parlarne, quindi non ne parlerò. E siamo intervenuti per salvare i correntisti. Chi è rimasto fuori da questa operazione di salvataggio? I reazionisti delle banche popolari e i possessori di obbligazioni subordinate che avevano acquistato dei titoli che davano un rendimento decisamente superiore rispetto a quello del conto corrente. Cioè le 10.000 persone che voi nel vostro slang mediatico avete definito immediatamente i truffati sono persone che sicuramente potranno dire di aver avuto un danno e che dovranno, se vorranno, dimostrarlo di fronte a una procedura arbitrale o dove credono, ma che, così ci togliamo qualche sostenibile alla scarpa, sono persone, in larga parte, che hanno fatto delle scelte del tutto legittime. Poi vi sono in alcuni casi dei potenziali elementi di presunta truffa perché il direttore di banca gliel'ha venduto, il cittadino non conosceva tutte le questioni che avete visto in questi mesi. Ma questo è l'elemento chiave, fondamentale. Stiamo parlando di circa 10.000 persone che hanno acquistato delle obbligazioni subordinate che davano un rendimento maggiore rispetto al conto corrente. È chiaro questo? Questo deve essere chiaro. Stiamo parlando di questo. Che cosa abbiamo fatto noi nel capo 2 di questo decreto legge? Grazie all'autorevolezza del ministro Paduan, all'ottimo lavoro dell'ambasciatore Calenda e di tutto il team che ha lavorato, nessuno escluso, abbiamo ottenuto che vi possa essere un rimborso forfettario fino all'80%, senza bisogno di arbitrato. Vanno e prendono assegno un rimborso, perché ricorra una delle due condizioni che adesso vi dico. Uno, se hanno un ammontare del reddito lordo molto basso, cioè se sono in difficoltà, se hanno un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'IRPEF nel 2015 inferiore a 35.000 euro, quindi se non stanno bene, il truffato che sta sull'astrico, meno di 35.000 euro, quindi un impiegato, può direttamente andare e chiedere fino all'80% e glielo danno sull'unghia, a condizione naturalmente che stia dentro questa caratteristica. Oppure che abbia un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro, anche se ha più di 35.000 euro. Io ho questi 40.000 euro che avevo messo con l'obbligazione subordinata, vado, questo non viene pagato dal contribuente ma dal fondo delle banche, quindi i cittadini, gli altri cittadini che dicono che però loro prendono, no, il cittadino non spende una lira, sono il fondo bancario che paga, quindi non sono i soldi di tasse, non sono soldi del contribuente, sono soldi dei fondi bancari, ma questa è una novità enorme. Ecco perché abbiamo aspettato. Ah, Renzi e Padon vogliono, si prendono gioco. Stavamo lavorando per trovare una soluzione, una buona notizia per queste persone. Al netto degli slogan, al netto delle polemiche, delle strumentalizzazioni, abbiamo fatto un grande servizio per chi si trova in queste condizioni. Grazie all'Unione Europea che ci ha aiutato e ha accettato questo principio, naturalmente questo vale per tutti quelli che hanno acquistato entro la data del 12 giugno 2014. Rimangono fuori soltanto 158 persone che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati. Definirli truffati quelli che vanno sul mercato elettronico secondario, un po' difficile, però avranno la possibilità, se riterranno, con l'arbitrato, perché per gli altri ci sono le procedure dell'arbitrato. È chiaro questo concetto? Sono stato un po' noioso, ma il primo punto è che togliamo dal campo una grande questione che ha attraversato gli ultimi quattro mesi. E togliendo questa questione ci possiamo togliere anche qualche sassonio dalla scarpa. Questo Governo è il Governo che ha non soltanto fatto rispettare le regole a tutti, senza guardare in faccia a nessuno, ma che ha fatto un lavoro per i propri cittadini per dare un messaggio di serenità sulla questione dei rimborsi bancari, per dare anche un messaggio di tranquillità a chi mette i depositi in banca, che francamente era probabilmente inimmaginabile fino a tre o quattro mesi fa. Secondo e terzo punto, e poi lascio a Padua nel compito di entrare nel merito, vi sono delle misure per ridurre i tempi, non per le persone fisiche, ma per le persone giuridiche. Mi spiego. Vi ricordate la polemica? Ah, ma adesso se per sei mesi non paghi la casa te la porto in via. Questa vicenda di cui stiamo parlando, che riguarda i non-performing loans, cioè per i crediti deteriorati, incagliati o deteriorati da parte delle banche, è un grande problema. Perché? Perché a noi ci scontano troppo la questione dei non-performing loans. Non soltanto perché il sistema italiano, per arrivare a chiudere la procedura, diciamo fallimentare, utilizziamo un termine ampio, ci mette molti anni in più degli altri Paesi. Da noi ci vogliono dai sei agli otto anni. Quindi campacavallo prima di rivedere i soldi che hai prestato. E questo indebolisce il sistema del credito italiano. E indebolendo il sistema delle banche, le banche fanno meno credito, perché hanno più paura e perché hanno dei margini minori. Cosa abbiamo messo noi? Al cittadino che ha la prima, la seconda, la terza, la settima casa, non cambia niente. Persone fisiche sono fuori, ok? Hanno già la regola di cui ha la precedente direttiva, diciotto mesi, quella roba lì. Al cittadino, alla persona giuridica, abbiamo messo la possibilità, firmando con le banche, non è automatico, è per chi firma con le banche, di avere dei tempi tecnici che passano da sei, otto anni a sei, otto mesi. Questa è una grandissima novità. È evidente che è una possibilità concessa alle banche di avere certezza, nel senso che se tu dopo sei mesi non paghi il singolo intervento, la banca può intervenire, e questo è un elemento di novità. Oggi ci mette sei anni perché deve fare il tribunale e dintorni, ma questo vale se l'azienda firma, quindi se l'azienda ritiene di dover fare questo passaggio, e quindi evidentemente otterrà delle condizioni migliori, e contemporaneamente questo avviene dando uno strumento in più alle aziende, vale a dire il pegno mobiliare non possessorio, cioè sostanzialmente potendo permettere di costituire pegno non possessorio per garantire i crediti, non soltanto dall'immobile, il capannoncino, ma anche dai macchinari o dalle scorte. Posso dire che le mie scorte valgono tot, costituisco pegno sulle tue scorte e non soltanto sul tuo capannone. Cioè noi cerchiamo di smuovere l'economia. Ci sono poi una serie di misure ulteriori che riguardano le forme telematiche. L'adunanza dei creditori, anziché metterci tre mesi perché bisogna chiamare tutti, si fa con un clic, questo riduce i tempi. Ecco perché vi dico che c'è una grande novità da sei, otto anni a sei, otto mesi. L'ultima misura, oltre ai DTA, riguarda il fatto che siccome ci sono troppi, ahimè, problemi in alcune banche di eccesso di personale, perché sempre di più le banche si usa l'on banking, perché le fusioni porteranno a ridurre il numero delle persone che lavorano in banca, c'è un ulteriore scivolo. Se le banche pagano, anziché dai tre anni ai cinque non mi ricordo com'è la misura, ma comunque da quanto? Sette. Quindi da tre a sette anni, purché le banche paghino, si dà uno scivolo, si aumenta, si permette di andare via prima dandogli più soldi, ovviamente, al laboratore. Quindi chi vuole fare l'accordo è una bellissima misura questa. Cosa mi sono dimenticato? Lui. E dai, fai tutto. E che mi fai interrogare? No, assolutamente. Ma questo però è una gran cosa. Eh. Ma nulla, il fatto che ci sia questa misura è passare da sei, otto anni a sei, otto anni. Cambiato la regina. Domande per Pallon, prego. Buonasera, Bonini, ReNews24. Noi in queste ore aspettavamo che il decreto sui rimborsi scattasse da quella data del 13 agosto dell'anno scorso, cioè quando entrava in funzione la famosa direttiva sul bargain sharing. Il perché della data del giugno e, alla fine, quanto sarà il fondo separato di 100 milioni di euro nei mesi scorsi? Queste misure, in totale, su quanto conteranno? Dunque, innanzitutto la data è stata, come diceva il Presidente del Consiglio, la data, lei ha citato una data che girava, tra tante cose che sono girate, che non era la data giusta. Non era una data carta, è una che girava. Sì, sì, è una che girava. La data che vale nel caso del decreto è quello che ha ripetuto il Presidente del Consiglio e che coincide con la data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Commissione del decreto BRRD. Quindi è stata scelta per quella ragione lì. Poi lei mi fa una domanda a cui è difficile rispondere, non che non voglio rispondere, ma che è difficile rispondere, cioè l'ammontare. L'ammontare dipenderà dall'effettiva implementazione non solo di chi chiede il rimborso automatico e lì si possono fare già dei conti, ma degli esiti dei processi arbitrali, perché il processo arbitrale richiede che venga valutato e che quindi poi si decida, tra l'altro, se ci sono condizioni che, scusate, sul termine inglese si chiama misselling, vale a dire il fatto che qualcuno abbia acquistato in condizioni di poca trasparenza sul profilo di rischio un asset, in questo caso, subordinato. Quindi dipende da come andranno quelli. Posso semplicemente dire che le risorse per coprire sia i rimborsi automatici, sia gli esiti degli arbitrati non saranno razionate, quindi non c'è il rischio che arriva qualcuno prima di me, si prende i soldi e non è rimasto più niente. Questo problema non si porrà. Il Presidente ha detto rimborso forfettario fino all'80%, cioè chi decide rimborso forfettario e poi questo vuol dire fino all'80% o pari all'80%, nel senso che potrebbe essere anche il 50% o il 60%? 80%. Quindi pari all'80%. Sì, l'unico elemento di differenza è che se tu hai ottenuto, le leggo paro paro il testo, cioè la questione dei rendimenti, le leggo paro paro il testo, cosicché non ci siano dubbi, l'articolo, voi sapete che non possiamo darlo finché non abbiamo dato al Parlamento, però l'importo dell'indenizio forfettario è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui sopra, acquistati entro il 12 giugno del 2014, quindi rimangono fuori i bonini soltanto i 158 di cui abbiamo parlato prima, quindi rimangono fuori solo i 158 perché se era la data che dicevi te ne rimanevano fuori i 2.158 e detenuti alla data della risoluzione dalle banche di liquidazione al netto di a oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto, b. la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente, oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di buoni del tesoro poliennale in corso di emissione aventi durati finanziari più vicina, al che lei potrà dire, cioè, e io le rispondo esattamente quello che ha detto Vada e che avevo detto prima io, cioè nel caso in cui vi sia una differenza positiva del rendimento di queste robe si va a ridurre il forfè, perché lei potrebbe aver preso una roba sette anni prima, averci guadagnato un fracco di soldi perché aveva il 7% anziché dell'1% e di conseguenza la differenza eventuale e positiva è comprensibile, perché altrimenti lei ci ha fatto un guadagno doppio, ci ha guadagnato prima e poi ci riguadagna dopo. Prego? Io fossi uno di quelli che c'è i soldi lì, metterei oggi, andrei a abbracciare Padoan, fossi io, poi lei magari ha altre persone, alcuni per carità di Dio, possono farlo arbitrato se vogliono, devono provare che c'è stato un elemento, possono fare quello che credono, ma il punto chiave è che questo meccanismo è complesso da legge, in soldoni, se tu ci hai guadagnato talmente tanto negli anni precedenti, non è che puoi pensare di riguadagnarci di più, scusate, perché io i soldi li ho messi con il conto corrente allo 05, quant'è il conto corrente? 05 all'1%, quant'è? 03, quant'è? Zero, in banca zero, c'ho 30.000 euro ma diciamo che è 0. 0,1 me lo daranno. Vabbè, ho capito, ho capito, qualche mese fa era lo 0,5, qualche anno fa era l'1, ok? Però se quello ha preso il 7, capite che ha fatto, e se l'ha fatto soltanto negli ultimi 6 mesi è un film, se l'ha fatto negli ultimi 7 anni il 7% ha preso un po' di soldini, mi torna? Ecco dov'è il punto fondamentale per fino all'80%, ma mi sembra al minimo, diciamo. Sì, sono un graziolo dell'Agenzia Radio Cor, volevo chiedervi le risorse necessarie per questa platea più ampia di rimborsi, da dove provengono? Sono le... in legge di stabilità avevamo già introdotto una norma che istituiva tra l'altro un fondo, che aveva un tetto. Come ho detto prima, le risorse non saranno tali da razionare a chi ha diritto sia al rimborso automatico sia nel caso di esito positivo all'arbitrato. Quindi il problema è se ci saranno soldi per tutti quelli che ne hanno diritto in base alle norme, ma la risposta è sì. Vorrei metterla in positivo, una questione. Questo l'ha già detto il Presidente del Consiglio. Sono soldi che vengono dal sistema bancario, che finanzia questa operazione di rimborso sia di arbitrato che di rimborso di rete. Posso fare un secondo Renzi? Non c'è un centesimo speso dai cittadini per questa cosa. Non c'è nessun truffato che non riprende tutti i suoi soldi e non c'è nessuno che possa dire che non vi sia stata la massima attenzione da parte del Governo. Poi fuori da qui c'è il campionato mondiale degli slogan e il campionato mondiale della demagogia, i poveri. Noi abbiamo messo a disposizione tutto ciò che serve con una straordinaria collaborazione con l'Unione Europea. E finalmente possiamo dirlo dopo che per mesi siamo stati costretti a leggere l'illeggibile e a sentire l'inascoltabile. Prego. Da lei, SkyTG24, avete una stima di quanti dei 10.500 risparmiatori ricadono in una delle due condizioni? Le stime ci sono, ma sono stime che devono essere verificate. Comunque ci sono in totale 10.000 risparmiatori. Direi che un po' più della metà ricadono in quegli aventi diritto di rimborsa automatico. Io però vi chiedo di essere cauti con questo numero perché, come è stato spiegato prima, dipendono dalle soglie di reddito e di ricchezza, soprattutto la ricchezza bisogna identificarla. Stiamo facendo dei conteggi, ma insomma quindi non vorrei dire numeri al di là di queste cifre di ordine di grandezza. Certo, se hai un milione di euro in banca e prendi 300.000 euro l'anno, è più difficile, ma non credo che ci sia uno... fai arbitrato e devi dimostrare che non te ne sei accosta. Un po' complicata da spiegare, però con tutto il rispetto auguro in bocca al lupo a quelli che stanno a questi livelli. Però almeno si va nel merito, perché per me ci si è parlato del governo e dei truffati. Allora si va nel merito e si va a vedere. Sarà una cosa molto importante. Noi siamo dalla parte dei truffati. Ma dalla parte dei truffati. Presidente, la prossima settimana nel suo staff nominerà anche Marco Carrai? Io ho molto apprezzato l'atteggiamento che avete avuto nei confronti di Marco Carrai, che è un imprenditore del settore... è un mio amico. Come tante persone che lavorano nel mio staff, persone con le quali lavoro da mesi, da anni, o nel caso di Marco Carrai, insomma da più di dieci anni. Ho chiesto a Marco Carrai di venire a darmi una mano nel settore dei big data, che è uno dei settori più interessanti in prospettiva e delle ricadute più intriganti. Spero che non abbia cambiato idea, io no, vorrei che lui venisse a lavorare con noi, trovo che il modo con il quale è stato raccontato Carrai ai vertici dei servizi, Carrai capo del... è stata una delle cose sulle quali sinceramente avete, vorrei dire a lei, mi perdonerà, dato maggiore sfoggio di fantasia. Si sta parlando delle nomine di staff. Spero che egli accetti di venire a lavorare con noi, anche perché nel caso in cui accettasse, dovendo fare il blind trust e smettere di prendere tutti i soldi che prende, la sua qualità della vita peggiorerebbe, la qualità dello staff di Palazzo Chigi migliorerebbe. Se le può interessare, la settimana prossima conto anche di fare la nomina del nuovo caposegreteria, perché come forse sapete da qualche mese il dottor Palumbo non è più caposegreteria perché è tornato per vicende personali sue a lavorare nell'amministrazione di origine. Conto di fare alcune strutture di organizzazioni mie. Conto di chiudere la questione, questa più istituzionale che è di staff del Ministero nello sviluppo economico. Abbiamo provveduto a lavorare anche sull'unità di missione del dissesto e della scuola, quindi se volete vi faccio l'elenco degli organigrammi interni di Palazzo Chigi, ma credo che non sia la cosa più affascinante e spero che finalmente possiate considerare le cose per come sono. Marco Carrai è uno dei principali esperti di Big Data in Italia, spero che non si sia stancato di leggere il suo nome nel modo con il quale lo avete dipinto, tra l'altro chi conosce Carrai sa che non c'è una persona più distante da come l'avete raccontata di lui. Ma insomma è naturalmente la libertà della democrazia e la bellezza dell'informazione. Però poi c'è la realtà e la realtà talvolta è un'altra cosa. Come si dice, i fatti separati dalle opinioni. Ho letto molte opinioni, ma adesso siamo ai fatti. Prego. Presidente, questo pomeriggio ho incontrato il vicepresidente americano Biden. Le possiamo chiedere i temi dell'incontro e se avete parlato anche di Libia, che ha fatto anche uno dei temi. Vicepresidente Joe Biden è un grande amico dell'Italia, è un amico del nostro Paese, è un amico del nostro Governo, una persona saggia, di grande esperienza con il quale abbiamo lavorato. Ho visto che ci sono polemiche, perché nelle foto gli faccio così. In realtà era lui dalla macchina che mi ha salutato così, quindi gli ho fatto così, non era un autostop alla macchina, giusto per evitare che poi tutte le volte che c'è una discussione su una visita istituzionale c'è sempre un problema. Ah, Renzi fa così a Biden. Biden era in macchina, mi ha fatto così, non era l'autostop. Così evitiamo l'ennesima straordinaria pagina sui social nelle prossime ore. Abbiamo discusso di questioni molto rilevanti, molto significative. Lui oggi era in visita in Vaticano dal Papa Francesco, anche per, non soltanto per il suo ruolo istituzionale, ma anche per la grande battaglia che sta facendo contro il cancro. Il Vicepresidente Biden ha perso un figlio qualche mese fa per un tumore. Le sue parole sono state parole veramente commoventi, vi ricordate, durante il funerale. Chi ha seguito il discorso allo State of the Union di Barack Obama ricorderà come il Presidente Obama abbia ringraziato solennemente Joe Biden per il ruolo di fronte a tutto il Congresso e come è stato anche bello quel momento così emozionante e di rispetto. Talvolta sarebbe bello che anche altri Parlamenti, non soltanto quello americano, sapessero riconoscere certi momenti come momenti di condivisione. Abbiamo discusso delle principali questioni aperte, Joe Biden veniva dall'Iraq, quindi abbiamo discusso della diga di Mosul, della situazione del governo di Al-Abadi, abbiamo discusso di Siria, dei passi in avanti della tregua, abbiamo discusso di Afghanistan, l'Italia ha preso il posto anche degli spagnoli, quindi ha una presenza maggiore, come sapete anche dal decreto missioni, abbiamo discusso di Libia, degli sforzi necessari a sostenere il governo a Serraggi, abbiamo discusso di Ucraina, c'è una sensibilità molto forte di Biden che da senatore del Delaware si è molto occupato di Nato e di Europa in passato, abbiamo uno sforzo quindi di Ucraina, di Russia, del vertice Nato che si terrà a Varsavia, pensate che il vertice Nato si terrà proprio nella stanza dove si firmò il patto di Varsavia allora, segno evidente che il mondo sta cambiando, la foto di gruppo il 7-8 luglio prossimo sarà proprio in questo palazzo a Varsavia, abbiamo discusso della situazione economica perché anche se domani non avrà i titoli il fatto che il Jobs Act, il cui copyright dei Democrats americani abbia ottenuto i risultati, ricorderete che nelle ultime settimane i giornali e il Parlamento era pieno di persone che diceva che era finito l'effetto Jobs Act, che finiti gli incentivi non ce n'era più per nessuno, tutti si magnificavano altri paesi perché avevano 60.000 disoccupati in meno nel trimestre, riferisco alla Francia, poi ci sono arrivati i dati di 63.000 disoccupati in meno nell'arco di un mese soltanto in Italia, grazie al Jobs Act, grazie al lavoro delle riforme, quindi abbiamo discusso di politiche del lavoro, di politiche di crescita che per noi è un mantra, dell'incontro di Hannover, direi basta, è stata un'ora, non è che è stata una giornata, poi abbiamo discusso. Non abbiamo parlato di primarie americane, quindi non abbiamo parlato di politica interna americana, c'è questo stupore che si legge negli occhi dei nostri interlocutori quando ti dicono però l'Italia è diventato il paese più stabile d'Europa, e sapessero che siamo stupiti anche noi, ma il punto è che con le riforme si può finalmente cambiare. Bene, se non ci sono altre domande, prego, come no, volevo giusto appunto vedere se facevamo l'after hour stasera. Giuseppe Fonte, Reuters. Due chiarimenti per il Ministro Padoan. La riduzione a 6-8 mesi dei tempi di recupero dei crediti immagino avvenga attraverso il pegno non possessorio, se ho capito bene. E soprattutto se questo pegno possessorio va introdotto come clausola nel contratto di finanziamento, poi sulla questione delle DTA, cioè ci avete spiegato che il decreto, ok, poi sulla questione delle DTA ci avete spiegato che gli indennizi vengono finanziati con risorse attinte dal sistema bancario, quindi non ci sono soldi pubblici, ma queste risorse concretamente da dove arrivano? Alle 4 bridge bank, le nuove banche salvate che sarà concesso di vendere le DTA, è questo il meccanismo? Allora, tante cose mi ha detto. Primo, il pegno non possessorio è un istituto importante che di fatto permette alle imprese in difficoltà, che si spera del temporaneo, di continuare a usare i beni strumentali anche se sono dati impegno al creditore, mentre prima in passato se tu avevi un problema con me, io ti prendevo il macchinario e tu ovviamente avevi ulteriori difficoltà, quindi è un meccanismo prociclico, noi abbiamo introdotto un meccanismo anticiclico che va nella direzione di risolvere i problemi. Secondo, mi scusi, il DTA, allora il DTA, cioè i crediti d'imposta, sono un problema che le banche avevano in passato e che pure sono state già risolte mesi fa con misure prese l'estate passata, a seguito delle quali, a non ci saranno più crediti d'imposta in futuro, quindi questo risponde alla tua ultima domanda se non mi sbaglio, e due, hanno permesso di ridurre questi crediti d'imposta che prima richiedevano fino a 18 anni per essere resi esigibili per le banche, poi via via riducendole, adesso le abbiamo ridotte a zero, per cui non c'è più una sospensione di crediti di cui le banche non possono godere a meno che i debitori non facciano profitti, quindi questo aveva lo svantaggio che mangiava capitale alle banche, quindi le rendeva più fragili. Adesso questo meccanismo non c'è più, per liberarsi di questo meccanismo si è concordato con la DG Competition, con la Commissione europea, che le banche dovessero pagare una, non dico tariffa, un fee che permette di utilizzare quello che viene assimilato a una forma di garanzia pubblica, finché ci sono questi crediti è come se lo Stato concedesse una garanzia che va pagata, quindi è un meccanismo che va a morire. Gli introiti di questi fee pagati dalle banche serviranno a finanziare tra l'altro quello di cui si parlava prima, cioè il rimborso degli spalmiatori. E parzialmente così lo possiamo dire, così perché per Carlo le buone notizie le da sempre centellinate, perché, posso dirlo? Una parte di questi denari andranno nelle misure del decreto competitività al quale si sta lavorando, che vuol dire che una parte di questi soldi dalle banche torneranno alle imprese che fanno investimenti e iniziano una cosa bellissima, credo che sia un segnale, almeno 100 milioni andranno in misure per le imprese o per chi vuole creare un'impresa, quindi non resta che aspettare. Io però, l'ultima? L'ultima? Lei è scesa? Dove arrivava lei? Però c'era prima lui. Le ultime due. Allora, il fatto quotidiano.it. Quello che volevo chiedere era, prima, oggi il fondo Atlante ha presentato i dettagli del fondo, sono stati presentati i dettagli e le risorse, a quanto pare, bastano soltanto per la Popolare di Vicenza. Ci sono altre iniziative analoghe per gestire il resto del fondo bancario. Questa sarebbe la domanda. Va bene. La seconda, così prendiamo insieme. Volevo sapere se avete esaminato anche qualcosa sulla banda larga. Aveva annunciato... Allora, rapidissimo. La parte banda larga, noi abbiamo dato il via libera ufficiale ai primi bandi, come è d'accordo e come è comunicato quest'oggi nel corso di un collegamento, perché non sono stato fisicamente a Pisa, ma nel corso di un collegamento, partono i primi bandi. La vera scommessa sulla quale metterò tutta la mia pressione, e spero che poi il nuovo Ministro, quando arriverà, possa lavorarci insieme, e il Commissario per l'Italia digitale, che sarà il Dottor Piacentini, come sappiamo, a partire dal 17 di agosto. La vera scommessa però non è quando è il primo bando, ma quando sarà l'ultimo, cioè in altri termini. Io vorrei che riuscissimo a compattare il più possibile i bandi C e D. Detto questo, come ho spiegato stamattina, non era un provvedimento che andava in ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ma era una comunicazione anche alla luce del fatto che oggi sono i 30 anni di Internet. Quindi sì, ma la vera scommessa è il futuro, e su questo siamo, diciamo, ipersensibili. Il fatto che Atlante abbia finito i soldi avendo un patrimonio di 4 miliardi e avendo l'aumento di capitale di Vicenza un valore di un miliardo, è evidentemente una cosa che cozza con la matematica. Poi naturalmente uno può dire, beh, ci aspettavamo di più dall'aumento di capitale di Vicenza. Noi no, perché se ci fossimo aspettati un'altra risposta di mercato non avremmo messo tutta la nostra moral suasion per fare velocemente il fondo Atlante. No, perché se no ci si racconta una storia totalmente diversa. Che l'aumento di capitale di Vicenza potesse non andare benissimo l'avevamo vagamente intuito, anche se non sembra. E di conseguenza si è lavorato per arrivare con l'aumento di capitale con Atlante pronto. Atlante vale più di 4 miliardi per il momento. Io dico qui che questo strumento con le misure di oggi crescerà in modo rilevantissimo, perché noi abbiamo fatto la nostra parte sulla quale ci eravamo impegnati per Carlo e Dio nel corso dei nostri incontri. Ma il fondo Atlante ha una serie di opportunità e di possibilità che naturalmente non si limitano alla veicenda Vicenza. Poi che su Veneto vi siano state dichiarazioni dell'amministratore delegato di intesa a San Paolo, il dottor Messina, che come sapete noi stimiamo molto, che immagina di poter fare a meno di Atlante sull'operazione Veneto, che ci sia bisogno di altro, questo lo vedremo. Ma Atlante non ha finito i soldi. Avendo più di 4 miliardi e impegnandosi per poco più di uno, Atlante è uno strumento operativo. Le dico che la misura sugli NPL, secondo me, rende molto conveniente far parte della sfida di Atlante e più in generale affrontare gli NPLs in Italia, perché se passi da 6-8 anni a 6-8 mesi significa che la musica è cambiata. E siccome i mercati sono pieni di gente sveglia, sono certo che se ne accorgeranno e questo spiega anche perché abbiamo fatto il CDM venerdì sera alle 18 e non durante i mercati aperti. Monticelli della Dire. Volevo sapere, per il pegno non possessorio, se si può usare come garanzia anche su quote delle società? E sugli indennizi, in una precisazione, non ho capito quanti sono gli obbligazionisti subordinati che restano, che dovranno accedere alla procedura con l'ANAC di arbitrato. Il primo, il pegno non possessorio ha a che fare con capitale che in teoria è di proprietà dell'impresa, quindi non è che è una garanzia aggiuntiva. Il pegno non possessorio ha a che fare con l'utilizzo materiale, diciamo così, di un tornio che altrimenti verrebbe sequestrato dalla banca, che peraltro non saprebbe cosa farne, e toglierebbe capacità produttive all'impresa. In questo modo si riequilibra la situazione patrimoniale tra il creditore e il debitore, ma si lascia in tarta la capacità imprenditoriale dell'impresa. Come tenuto conto delle soglie di reddito, di ricchezza e della data di cut off, le persone come l'ha detto prima il Presidente del Consiglio, che sono escluse e che quindi hanno solo la possibilità, che non è poca, di avere l'arbitrato, sono 158. Vi ringraziamo moltissimo, vi ricordo il nostro fine settimana, con Padova ci siamo fidanzati in casa e quindi domenica alle 12 il Cipe per festeggiare il primo maggio, 2 miliardi e mezzo su ricerca o un miliardo su cultura, 3 miliardi e mezzo totali. Nella giornata di domani, purtroppo Padova mi lascia, ma poi ci ritroviamo velocemente, alle 10.30 domani o alle 11 a Reggio Calabria, alle 12.30 a Catania, 10.30 a inaugurazione del Museo Nazionale che ospita i bronzi di Riace, a firma del patto per la Calabria con il Presidente Oliviero, firma del patto per Reggio Calabria con il Sindaco Falco Matà, 12.30 a Catania, firma del patto per Catania con il Sindaco Bianco, riapertura ufficiale della strada a quattro corsie, omaggio e domani lo posso dire alla memoria di Piola Torre perché è il 30 aprile e credo che sia sacrosanto che andiamo a mettere un fiore alla memoria di Piola Torre, poi Palermo alle 15.30 e poi semplice insomma, quindi una cosa molto semplice e tranquilla e poi ci rivediamo lunedì dove alle 9.30 facciamo il Teatro Niccolini, alle 11.30 il Primo Ministro Abe e poi Matera e patto per la Basilicata. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.